Sì, oi? E' un po' di grado, e ce l'hanno volato detto. Voglio provare la legate? Siete quattro e prendete? E' un po' di grado. Dai il po' di salito. Guarda, e scontiamo. 3, 2, 1, via! E' un po' di grado. 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 Adesso manchiamo lo strumento. E' utilizziamo lo strumento Molto molto carino. E' anche in una forma giovanica. Cod'è? Certo. Colore? Gialdo, rosso e verde. Ok. Delle mani che facciamo? Vai! E' un po' di grado. C'e c'er? Come on. Come on. Come on! C'è? E' un po' di grado. Delle manchiamo. Yeah, come on. C'è un po' di grado. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.